Ciao a tutti, io sono Mitalandia, come vedete ho il pigiama, ho la tazza, quindi è l'ora del latte. Ma prima, come sempre, sigla! Bene, sozio iniziale. Bene, vi ho detto che mi piace tutto il pregine di video, latte caldo, parlare con voi, più o nemmeno. Sono un po' le novità della mia vita. Per esempio, il progetto casa. Ho parlato con una delle doccatrici e... Ho detto che voglio... Non voglio farlo più. Perché... In questi giorni, in cui ne sono andato, ho capito che... Che torno meglio senza il progetto. Per esempio, domani papà non c'è. La sera... E ho deciso di ordinare per la prima volta da solo... La pizza. Ovviamente farò un video... Perché è un momento storico... Per me. Non ho mai comprato la pizza da solo. Voglio farlo perché... Voglio montare al ducatore e... E... E il centro sociale che non mi serve... Un progetto per essere autonomo. Dove... Voglio farlo... Io da solo, qui dentro. A casa mia. Non a casa di... Una casa che non... Immobile non ho deciso io. Niente ho deciso. Quindi non mi sentivo mia. Per quello... Sono andato via. Del progetto. Beh, questo non è il tema. Quindi... Parerò la prossima volta in tema. Perché ho cambiato... Lo dico di abbandonare il progetto. E poi... Da domani... Gli esisterò... Anche i video sul... Tic-tic-toc-toc-te. Perché non si può dire quella parola lì. Qui su YouTube. Per obbio motivi. Tutto l'estero mi sento... Felice. Libero. Poi che esaltro? Ho paura per... Per la crociera, ma... Tutto formato. Tutto bene. E qui... Basta così perché... Ivi... Perché l'atto è finito. Quindi... Se il video vi è piaciuto... Mettete un like. Iscrivetevi al canale. Ma prima di solitarvi... Una cosa devo dire. Se vostra vita è grigia... Solidete. Perché avete... Una vita sola. Ciao. Alla prossima.